Vedere come parlamentare perché è successo questo, come risponde a Bentivogli? Credo che il governo, la maggioranza e il mio partito dovrebbero ascoltare con grande attenzione e cura le parole di Marco Bentivogli. Credo che ci debba essere una grande attenzione e se quanto dichiarato dal ministro Patuonelli ha un senso, questo significa che noi dobbiamo ritornare in parte sulle decisioni prese perché rischiamo un impatto sull'occupazione e dunque sul paese molto grave. Immagino che nelle prossime ore ci sarà modo di discutere di questo. Parlerete di questo. De Manzoni.